Ragazzi è pronta, faccio l'assaggio. Vi voglio bene, scrivete mi piace e fate qualche commento. Dimenticavo, seguite la ricetta con solo un uovo o fatto un miracolo. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Buongiorno ragazzi, Chef Giannino oggi ha un uovo. La mia gallina ha fatto solo un uovo e devo fare una cosa speciale. Miracolosa, un uovo si trasformerà in 3 o 4 uova. Seguitemi, prendiamo il nostro uovo. Non si è rotto, non si è rotto l'uovo. Per forza ragazzi, l'uovo è congelato. Lo sbucciamo. Bene, ci siamo, l'uovo è congelato. Guardate che bello, a questo punto lo tagliamo. Guardate che bello. Uovo congelato. Bene ragazzi, a questo punto mettiamo un po' d'olio. Pentono tiaderente. Perfetto. Speneriamo un attimo. Il miracolo sta proprio qua. Da un uovo abbiamo fatto 4 uova. Faremo 4 uova. Guardate che spettacolo. 3 e 4. Facciamo andare piano piano. Un po' di pepe. Un uovo è diventato in 4 pezzi. 4 uova. Guardate che belle le uova. Sono diventate 4. Come ho fatto? Come ha fatto Chef Giannino? Bene, abbiamo tolto le nostre uova. A questo punto ci prendiamo una piadina. Prendiamo un coltello. Dal centro. Patrichiamo un taglio. Così. E iniziamo. Guardate che belle le uova di Chef Giannino. Da un uovo ne sono uscite 4. Perfetto. Cosa fa Chef Giannino? Prendiamo del formaggio. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Perfetto. Dopo il formaggio ci mettiamo adesso. Ci mettiamo l'ovettino che abbiamo appena fatto. Qua lo mettiamo. Uno di qua. E uno di qua. Guardate che bello. Che spettacolo. Che spettacolo c'è Giannino. Ci aggiungiamo anche un po' di salame. Un po' di salame. Qualche Worcester. Qualche pezzettino di Worcester. E salame. E continuiamo. Bene dai. Guardate che bella. Un po' di maionese. pentola calda sul fuoco. Chiudiamo. Chiudiamo la nostra. La nostra piadina. Et voilà. Uno. Due. A portafoglio ragazzi. A portafoglio. Guardate che bella. Mettiamola adesso. Sulla pentola antiaderente. Facciamo cuocere tre minuti da una parte. E tre minuti dall'altra. A dopo. Ci siamo. E' pronta. E' pronta la nostra piadina a portafoglio. Guardate che bella ragazzi. Guardate che bella. Come fumante. Guardate che bella. Chef Giannino. E tutto questo. Fatto con un uovo solo. Solo un uovo. Chef Giannino. Guardate che bello. E ha fatto. Li ha moltiplicate le uova. Mamma mia. La tagliamo.